Grazie a tutti. Per quanto ci riguarda i punti essenziali, però ovviamente non riusciremo a coprire tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per voi, per cui abbiamo previsto che dopo questa serie di presentazioni molto rapide ci sarà tutto il tempo per fare delle domande a gruppetti e personalmente per cui potremo se possibile rispondere a tutti i vostri dubbi che avrete ancora in seguito a queste presentazioni. Ci sarà quindi un breve rinfresco dopo, non durante, in cui informalmente potremo discutere di tutte le vostre necessità e di tutti i vostri dubbi. Io inizio subito, quindi presenteremo le due lauree magistrali in ambito biologico, prima biotecnologie molecolari e industriali e poi biomedical sciences, la mia collega ve la presenterà molto brevemente. Poi ci sarà una parte invece in cui faremo qualcosa di comune dal punto di vista proprio amministrativo, quindi necessità per l'iscrizione, tempi di iscrizione e altre informazioni che possono essere utili anche da punti saprati, tempistiche per quando c'è possibile. E poi ci saranno anche delle testimonianze di nostri studenti o ex studenti che porteranno la loro testimonianza riguardo appunto i corsi di studio che hanno frequentato. Inizio subito, quindi con presentarvi la mia, nel senso che da quest'anno sono presidente del corso di laurea in laurea magistrale in biotecnologie molecolari e industriali. Adesso cercherò di non voltarmi troppo verso lo schieno per non perdere il microfono. Molto brevemente, quindi cercherò di andare assolutamente oltre i tempi, quindi 10-15 minuti in massimo, vi presento il nostro corso. Come vedete sotto il titolo c'è il nostro motto che è sapere, saper fare e saper essere. Io sono una persona pragmatica per cui mi piace anche dare un significato a queste parole che possono essere sicuramente pieni di significato ma se non lo diamo un attimo a declinare. Però cosa vogliamo dire essenzialmente? Innanzitutto che quando passiamo dalla laurea triennale a una laurea magistrale dobbiamo fare un salto di qualità. Lo facciamo noi come docenti, come tipo di corso, devono farlo anche gli studenti. Nella laurea triennale che state frequentando essenzialmente si punta sicuramente su questi aspetti ma in maniera diversa, soprattutto su dare una impronta da un punto di vista culturale, di base, che possa poi permettere di capire e di andare poi a proiettarsi verso o il mondo del lavoro o una laurea magistrale. Nella laurea magistrale noi sicuramente abbiamo molti contenuti, però oltre ai contenuti che è la prima parola, cioè il sapere, e ampliamo il saper fare, cioè significa che noi avremo molte attività pratiche che sono la prateria di laboratorio, ma anche attività di stessura di relazioni, di analisi critica, di informazioni, testi, letterature, in modo tale da iniziare a diventare operativi e anche saper essere. Perché adesso, soprattutto negli ultimi anni, se siete un attimo dentro nelle richieste del mondo del lavoro, sapete che vengono molto richieste quelle che vengono chiamate capacità trasversali, soft skills, capacità etiche, quindi un approccio etico al mondo del lavoro, saper lavorare in gruppo, tutte queste attività e tutte queste capacità che vengono richieste dal mondo del lavoro e che noi vogliamo fornire agli studenti per quanto possibile, per quanto è il nostro ambito. Per cui anche tutto questo aspetto, cioè l'ultimo aspetto, è sicuramente molto più importante, è la nostra laurea magistrale, e sarà molto più importante rispetto a quello che state già sviluppando nelle lauree triennali. Dal punto di vista pratico, sapete benissimo che una laurea magistrale è una durata di due anni, quindi sono 120 CFU e sono ugualmente ripartite nei due anni accademici, con la differenza sostanziale, ve lo dico già adesso, che nel secondo anno accademico, essenzialmente voi sarete più concentrati sulla parte della tesi sperimentale, quindi avrete tutto il tempo per poter sviluppare questa parte, quindi seguire sperimentalmente il vostro ruolo di tesi che precede poi dopo la vostra laurea. Brevissimamente, proprio perché non voglio rubarvi troppo tempo, qual è l'interesse di una laurea magistrale in questo campo? Quindi andiamo adesso a discutere nel campo delle biotecnologie molecolari e industriali, perché effettivamente noi abbiamo, voi soprattutto che siete anche più giovani, avete di fronte molti problemi o opportunità, secondo di come si vedono, e queste opportunità possono essere approcciate con diversi tipi di attività, noi ci occupiamo delle biotecnologie, per cui a questi grandi problemi noi abbiamo delle piccole risposte, ma non piccole come importanza, ma piccole proprio come agenti che poi utilizziamo per dare queste risposte, cioè i microrganismi e i prodotti dei microrganismi, che possono essere proteine, possono essere metaboliti secondari, antibiotici e così via, che ci possono aiutare a risolvere moltissimi problemi. Io ovviamente ho preso alcuni spot come esempio, ma potete trovarne tantissimi e poi i nostri colleghi possono a loro volta, nei vari campi, indicarvi tutte quali sono le problematiche che possono essere risolti con un approccio biotecnologico, e soprattutto nel approccio biotecnologico molecolare. Quindi essenzialmente biotecnologie significa, lo sapete già, sviluppare dei processi, nuovi processi che possono, sicuramente sono eco-compatibili, servono per produrre per esempio energie rinnovabili, per migliorare la salute umana, ma soprattutto la salute umana in generale, ma anche la salute dell'ambiente, la salute animale, e tutti questi aspetti che ci riguardano più o meno direttamente. Perché una laurea magistrale in questo ambito, in questo territorio? Perché effettivamente voi vedete che il biotech in Italia sicuramente è uno dei ambiti più in espansione negli ultimi anni, noi abbiamo quasi 600 aziende biotech in Italia, e la maggior parte di queste sono dedicate a effettuare della ricerca, quello che viene chiamato intramuro, cioè praticamente all'interno dell'azienda. Quindi voi vedete che i settori che vengono coperti in queste aziende biotech sono principalmente quelli delle RED, cioè dell'ambito farmacologico, quindi progettazione, sviluppo di farmaci, terapie e tutto quant'altro che va in questo settore. Una parte significativa nelle white, che riguarda essenzialmente processi industriali, e poi ne abbiamo anche altre sicuramente rilevanti, ma in misura minore. Questo per dirvi semplicemente che nel nostro ambito, come corso di studio, più o meno noi riusciamo a coprire questi due ambiti principali, che rappresentano poi se voi vedete l'80-70% dell'interesse in campo biotech. Questo soltanto per rivedere che anche le persone che sono impiegate in questo ambito sono molte e sono crescendo, ma soprattutto che devono essere molto qualificate. Cioè più che in altre industrie, nell'industria biotech, la maggior parte degli impiegati deve essere laureata e soprattutto si spera laureata magistrale, proprio perché è l'elevato richiesta di un know-how nel campo della ricerca e dello sviluppo. Poi noi, questo è a livello nazionale, a livello della Lombardia, a livello della nostra regione, sicuramente siamo in una posizione avvantaggiata rispetto anche ad altri Atenei, perché? Perché la Lombardia è il distretto biotech italiano, dove si concentra la maggior parte delle aziende, sia che le vogliamo vedere come numero, sia che le vogliamo vedere come fatturato, sia come numero di addetti. Quindi non entriamo nelle cifre, perché lasciano il tempo che trovano e poi ovviamente ogni anno cambiano e così via, ma l'idea è essenzialmente questa. Quindi anche come substrato a livello economico noi ci troviamo in un ambiente favorevole e anche perché anche il cluster biotecnologico e biofarma del Canton Ticino è sicuramente vicino e appetibile anche per i nostri laureati. Noi questo tipo di informazioni le utilizziamo per progettare il corso di studio e per rimodularlo, per essere sempre aggiornati, perché voi capite che un campo biotech è sicuramente un campo economico e produttivo di ricerca che è sempre in evoluzione, quindi bisogna comunque sempre adattare l'offerta formativa e la figura che poi noi andiamo a produrre, andiamo a formare, perché sia sempre in sintonia con le richieste dell'ambito stesso. E ci basiamo quindi su vari tipi di input che ci vengono da vari report di associazioni, sia a livello nazionale sia a livello più locale e a varie iniziative che noi utilizziamo, che organizziamo anche, con cui collaboriamo, che ci permettono appunto di avere una stretta relazione con il mondo post lauream, quindi un mondo occupazionale. Andrei avanti adesso abbastanza velocemente. Questo è giusto per darvi alcuni spot, per dirvi che effettivamente questo campo è sicuramente, il campo delle bioteche, soprattutto delle biotecnologie molecolari, è sicuramente in espansione, però questo potete trovarlo direttamente, questi sono estratti dalla stampa, per fare appunto vedere questo grado di espansione, tutto il stato su cui lavoriamo. Invece, abbiamo dato queste premesse, che cosa è che, su cosa noi puntiamo per preparare i nostri studenti, effettivamente per un mondo del lavoro, che è sì recettivo, però va a cercare delle figure ben specifiche, e ben preparate. Sicuramente a grandi linee, cioè i punti fondamentali, che noi andiamo poi a mettere in un'offerta formativa, sono sicuramente le conoscenze di base, nelle aree biotecnologiche, abbiamo visto le rosse e le bianche, che sono quelle industriali o sanitari, che sono quelle principali, come percentuale di industria biotech, e quindi queste informazioni voi dovete averle, e quindi è la prima punto di partenza. Sia chiaro che noi ci impegniamo a fornire le informazioni, i corsi e gli insegnamenti più attuali, più completi possibili, però è un patto a due agenti, a due soggetti, da questo punto noi diamo un massimo impegno, voi dovete dare un massimo impegno, perché voi dovete fare un salto di qualità, anche nella vostra approccio allo studio e ai corsi. Quindi questo sicuramente è il primo punto. Sicuramente poi il secondo aspetto, per quanto si può sviluppare in un corso che dura due anni, sarà un aspetto più molecolare, quindi proprio perché caratterizza il nostro corso di studi, quindi andiamo su aspetti molecolari e cellulari più avanzati, con dei corsi specifici, e però avete, ci sono due punti fondamentali, che sono gli ultimi due punti, cui vi dicevo, che vanno nel sapere essere, cioè la pratica ed etica nel lavorare in laboratorio, aziende biotecnologiche, quindi voi farete, non voglio anticipare alcune cose appunto, per non dilungarmi, però voi farete degli stage, per esempio esterni, se possibile, oppure interni, comunque imparerete a lavorare in gruppo, e quindi a interagire con altre persone, e tutto questo vi permetterà di acquisire quelle competenze trasversali, che vi dicevo, sono estremamente importanti, e quindi la capacità di lavorare in gruppo, e anche in gruppo multidisciplinare e internazionale, perché poi ci sono delle interazioni, ovviamente con gli aspetti, per esempio medici, quindi con, se andate a fare per esempio uno stagio in ospedale, per esempio, quindi vi troverete a parlare, interagire anche scientificamente e operativamente, con persone che sono formate in ambito diverso, e se farete la tesi all'estero, anche ovviamente in ambienti internazionali, internazionali. I corsi non li vado a descrivere uno per uno, perché non avrebbe senso a questo punto, vi faccio però soltanto notare due o tre cose su questa slide, uno, questo significa che i corsi prevedono una parte in laboratorio, questo fa parte del saper fare, quindi quello puntiamo tanto, sul darvi tante le attività di laboratorio, per questo non vi serve semplicemente per imparare a usare una pipetta, o fare un saggio, o far crescere delle cellule, questo vi serve per imparare a lavorare, a lavorare in team, a organizzarvi, vi date la leadership, e vi prepara a preparare del report, a comunicare le vostre attività, su tutte le cose che poi, quando farete un colloquio di lavoro, vengono valutate estremamente, in maniera molto importante. E poi, invece, il pull, ma significa che, ci sono anche dei viaggi studio, perché? Perché in questo modo potrete conoscere le realtà, effettivamente, produttive, quindi andate a fare diversi viaggi studio, in diverse aziende, e questi qui non sono gite, ma servono per migliorare la vostra preparazione. e l'ultimo aspetto, poi vado avanti, anche qua, abbastanza velocemente, vedete che ci sono alcuni corsi in rosso, perché? Perché tutti i corsi del secondo anno, saranno erogati in lingua inglese. Questo ci serve, sempre per prepararvi meglio, per il mondo, che è sicuramente più globalizzato, e sia anche perché, noi abbiamo poi, ve lo spiegheremo brevemente, una laurea in double degree. Adesso vi spiegherò cosa significa, poi ci torniamo un attimo. Double degree significa che voi, alcuni studenti che verranno selezionati, partecipare a un bando, secondo i criteri che sono molto simili al bando Erasmus, potranno seguire il secondo anno interamente, presso l'Università di Praga, per il Dipartimento di Biotecnologie, e questo permetterà a questi studenti, di prendere in pratica un doppio titolo, quindi il titolo nostro, in casa dell'Università dell'Insubria, e anche un Master of Science, in Biotecnologie di Praga. Per cui, questo è uno scambio che noi effettuiamo, quindi gli studenti di Praga, vengono dal nostro istituto, a seguire il secondo anno, e per questo motivo, noi abbiamo i corsi in inglese, del secondo anno, e chi è interessato, facendo appunto un application, potrà avere l'opportunità, di effettuare questa esperienza, che è sicuramente estremamente interessante, sia come contenuti, come esperienza di vita, e professionalizzante. E questo è il campus di Praga. Vi dicevo, un aspetto importante, è il saper fare, saper essere, questo si declina anche nella possibilità, di fare uno stage formativo, di almeno nove mesi, alla fine del secondo anno, questo stage si fa all'interno, o anche all'esterno. Io qua ho riportato, giusto a scopo di esempio, gli stage che abbiamo approvato recentemente, nel Consiglio di Corso di Studi, giusto per farvi vedere, che la maggior parte degli stage, che abbiamo fatto, sono questi colorati, sono all'esterno della struttura, questo quindi è molto importante, per gli studenti, per interfacciarsi già con il mondo del lavoro, tra l'altro, questi, in viola, sono quelli che vengono fatti, verso aziende private, quindi non soltanto istituti di ricerca, ospedali esterni, ma anche aziende private, quindi questo è estremamente importante, questo è anche un vanto, nel nostro corso di studio, la possibilità di avere questa strettissima interazione, che è nata dall'interazione di ricerca personale, prima di tutto, con il mondo dell'industria, e quindi permette questo scambio, estremamente interessante, per gli studenti. Poi ovviamente, quegli stage che abbiamo fatto all'interno, sono stage di elevata qualità, perché l'elevata è la qualità, della ricerca scientifica, che noi facciamo in questo dipartimento. Poi eventualmente, la professoressa Flavia, come rappresentante del dipartimento, direttore vicario, può dire due cose, sul proprio dipartimento, presso cui viene ospitato, questi corsi di studio. Perfetto, ovviamente l'esperienza internazionale, non si limita al double degree, voi potete applicare per l'Erasmus, e Erasmus Trainership, l'unica differenza, fra questi due aspetti, che alla fine riguardano l'esperienza all'estero, e con l'Erasmus Trainership, voi potete effettuare, non soltanto seguire dei corsi all'estero, che poi vengono ovviamente riconosciuti, dal nostro corso di laurea, corso di studio, ma anche potete effettuare lo stage formativo, curricolare all'estero, quindi un'opportunità estremamente importante, che viene sovvenzionata, con delle borse di studio Erasmus, dall'università stessa. Tra l'altro, finora abbiamo la possibilità di sovvenzionare le richieste che vengono fatte, perché il rapporto fra offerta e domanda ce lo garantisce. E comunque questo può svilupparsi in vari ambiti. Sto per finire, così appunto poi lascio la parola al mio collega, che vi illustrà invece il corso di BMS, Medical Sciences. Quali sono i punti di forza, quindi, del corso che vi sto illustrando? Sicuramente un rapporto elevato fra docenti e studenti, perché noi abbiamo fortunatamente un numero non elevatissimo di studenti, è sufficiente, vorremmo aumentarlo, ma non vorremmo stravolgerlo, perché questo ci permette di fare una didattica con questo rapporto ottimale. Potremmo aumentarlo, però questo poi dopo andrebbe a discapito un po' della didattica, ovviamente, della possibilità di fare laboratori. Quindi cerchiamo gente, sì in quantità, ma soprattutto in qualità, studenti motivati a frequentare il nostro corso di studio. Ovviamente abbiamo tanti, ve l'ho detto, laboratori didattici, potete seguire durante i corsi tanti laboratori didattici. La possibilità di fare stage, ve l'ho già detto, i viaggi di studio l'ho già elencato. Abbiamo diversi progetti e borse di studio, queste poi, se siete interessati, possiamo poi parlarne direttamente, potete parlare con i miei colleghi che faranno le presentazioni successive su questi aspetti. E poi abbiamo, questo ve lo dico anche perché mi sono occupato anche dell'orientamento in uscita, abbiamo diverse iniziative che facilitano anche il passaggio dal corso di laurea, al corso di studi, al mondo del lavoro. Quindi, per esempio, degli incontri con persone che si occupano di risorse umane, di aziende, biotech, piuttosto che di associazioni, piuttosto che esperti in recruitment, che spiegano con questi incontri agli studenti come dobbiamo approcciarsi ad un incontro di lavoro, quali sono le, come si scrive un curriculum vita, quali sono le skills che devono essere, diciamo, seguiti in più in dettaglio, quindi, dalle persone, e così via. Quindi abbiamo tutta una serie di orientamento che viene fatto, coordinato anche con l'ufficio placement e orientamento dell'Università dell'Ateneo stesso. Quindi, per concludere, penso di aver elencato a spot giusto alcuni aspetti importanti del nostro corso di studi. Una cosa importante che vuole sottolineare, però, e l'ho già detto prima, è un stretto rapporto col mondo produttivo e con gli enti, associazioni, che ci permettono, appunto, di interfacciarsi col territorio, quindi di non lavorare a scatola chiusa e produrre, diciamo, una persona laureata che poi dopo magari non è, non si inserisce bene nel mondo del lavoro produttivo, ma siamo sempre in sintonia. Anche se io vi consiglio, ovviamente, e vi consiglio, è ovvio che noi dobbiamo guardare al territorio, dovete guardare all'Italia, ma dovete guardare all'Europa e anche all'estero, ovviamente, per il vostro tipo di preparazione e per il tipo di lavoro che andrete a fare. Poi le scelte sono personali, però guardate già con un orizzonte molto più ampio della provincia di Vareso e della Lombardia, da punti di vista occupazionale. Quindi questi sono giusti alcuni esempi di parchi tecnologici, imprese, enti locali con cui collaboriamo per effettivamente darvi sempre un'offerta formativa migliore e più aggiornata possibile. Queste sono alcune informazioni di contatto, per cui poi, comunque, tanti miei contatti potete avere tranquillamente attraverso il sito dell'Insubre, quindi scrivetemi pure, poi ovviamente c'è la segreteria didattica e per questa informazione sono a vostra disposizione. Grazie mille. applausi Grazie.